Ieri sera il discorso del Premier Conte sui nuovi provvedimenti che riguardano l'Italia, serrata totale contro il virus in tutta la nazione, deciso lo stop di bar e negozi garantiti, alimentari, farmacie, trasporti e servizi essenziali. La decisione anche in virtù dello stato di pandemia globale dichiarato dall'OMS. Le vicende si avvicinano anche allo sport, con la positività del calciatore della Juventus Daniele Rugani, notizia diffusa intorno alle 23 di ieri notte. È il primo caso nel mondo del calcio, Juventus subito in quarantena per qualche giorno con tamponi previsti ad inizio settimana prossima per tutta la squadra. Stessa situazione anche per l'Inter, avversaria domenica sera della Juventus nel match giocato a porte chiuse allo stadium. Insomma la situazione è in continua evoluzione con le news che si susseguono minuto dopo minuto. Sul calcio giocato ieri sera si sono svolte due gare in Champions League. Il Paris-Germain a porte chiuse ha superato il Dortmund 2-0 ottenendo il pass per i quarti, mentre a Danfield Road in presa dell'Atletico Madrid che dopo i tempi supplementari ha avuto la meglio sul Liverpool con il finale di 2-3. Decisiva la doppietta del subentrato Llorente con il pubblico presente sugli spalti. Una sensazione strana in questo periodo di forte difficoltà. Questa sera l'Europa League e anche qui è caos, si gioca a porte aperte sono in Scozia, Rangers, Bayern Leverkusen ed in Turchia tra Istanbul, Basasekir e Copenhagen. A porte chiuse quattro gare mentre rinviate le sfide delle italiane Siviglia-Roma e Inter che taffe. A tal proposito ancora non è chiara la strada da prendere, l'ipotesi è quella di giocare una gara secca in campo neutro per decretare le due qualificate ai quarti di finale. Anche la UEFA sembra vicina ad uno stop generale, lo stato di pandemia riguarda tutti, andare avanti in queste condizioni non è assolutamente plausibile. Questo non è calcio, al momento ci sono problemi maggiori in Italia ma anche in diverse nazioni europee. La sensazione è che il caso Rugani possa dare il definitivo impulso anche alla UEFA di fermare tutte le attività. Aggiungiamo noi che la soluzione più ovvia è sicuramente tardiva. Quello che si sta vedendo, come abbiamo detto prima, non è calcio e al momento la priorità è far rientrare l'emergenza nel miglior modo possibile e poi pensare alla ripresa delle attività. Al vaglio anche la possibilità di un rinvio degli europei. Appare chiaro che con un prolungarsi dell'emergenza sarebbe impossibile terminare la stagione in modo regolare e fare iniziare nei tempi previsti il primo campionato europeo itinerante. Tutto è suscettibile di cambiamento, le notizie si rincorrono e sicuramente non è semplice aver chiaro il quadro della situazione. La certezza è che bisogna stringere i denti e superare insieme l'emergenza. Le nostre comunità molisane a livello sportivo hanno da subito risposto in modo positivo. Dal calcio regionale fino alle rappresentanti di Serie D siamo stati tra i primi a bloccare le attività. Sul torneo di Serie D sono 165 su 166 le società da aver sospeso ogni forma di allenamento di gruppo. Solo una realtà ha scelto di andare avanti. Il Palermo, il club rosa-nero, ha deciso di proseguire non sospendendo le sedute di allenamento. Una decisione abbastanza particolare in un momento di grande difficoltà. Un po' come le immagini dei tifosi del Valencia ammucchiati fuori al Mestaglia durante la sfida con l'Atalanta. La percezione, manca la reale percezione, della pericolosità della situazione. Questo è il vero problema. Come se tornassimo noi stessi indietro dieci giorni. Oggettivamente non avevamo la reale dipensione di quella che oggi è una pandemia.